ci rivediamo sul canale perché è un po di tempo che non c'era una ragione molto pratica nel senso che in quest'ultimo periodo ho letto praticamente soltanto la saga di Blackwater, questi sei volumi scritti e pubblicati appunto nel 1984 che mi hanno preso molto e insomma sono state letture poco intervallate da altro e per cui avevo già filmato un video con il resoconto, la recensione diciamo così senza spoiler naturalmente del primo volume però poi ho deciso di non pubblicarlo, di aspettare, di leggerli tutti e sei per fare chiaramente un discorso organico, prima di tutto perché volevo evitare di urlare al capolavoro in maniera incoerente e soprattutto poi non supportata e non avvallata da quelli che sarebbero stati i volumi seguenti della serie, il primo volume mi è piaciuto, il resto lo lasciamo perdere e quindi mi pareva poi di fornire un giudizio abbastanza poco organico diciamo così e anche poco veritiero del cui ho aspettato di leggerli tutti e sei per poi farvi il resoconto finale. Dicevo 1984 quindi l'anno in cui vengono pubblicati per la prima volta questi volumi in realtà quello che sto dicendo è Neresia perché nel 1984 i volumi sono stati pubblicati in un unico volume quindi quello che noi adesso vediamo per Neripozza in questa collana strepitosa con queste copertine favolose che riprendono appunto l'edizione francese e all'inizio appunto il tutto è stato pubblicato in un volume secondo l'autore cioè secondo Michael McDowell appunto questa è stata la ragione principale per cui in realtà il libro cioè Blackwater la saga di Blackwater ha avuto un diciamo così un favore di pubblico abbastanza limitato poi cosa è successo è successo che in Francia è stato rilanciato questo libro con questi volumi separati e quindi Neripozza ha ripreso la stessa linea editoriale per l'Italia. Prima di tutto ho apprezzato tantissimo il fatto che questi sei volumi io qui ho portato il primo e l'ultimo però chiaramente ce l'ho tutti l'ho letti tutti ho apprezzato molto il fatto che i volumi siano stati pubblicati a distanza di 15 giorni perché alla fine nell'ambito di poco tempo sostanzialmente si è potuto leggere tutto. Non penso che avrebbero sbagliato a fare anche un'attesa più lunga tra un volume e l'altro perché comunque i libri hanno avuto subito un buonissimo favore e quindi sicuramente avremmo atteso per continuare a leggere le vicende di Mary Love, di Sister e chiaramente di Eleanor e degli altri personaggi appunto all'interno della saga quindi non voglio dire che non sarebbe andata bene ma in questo modo è andata soprattutto bene a noi lettori che non abbiamo appunto avuto delle attese. È un esperimento editoriale? Sì direi perché comunque un libro di 15 giorni è stata una sfida ma per quanto mi riguarda una sfida vinta da parte di Neri Pozza perché indubbiamente mi sono appassionata così tanto alla saga che aspettare 15 giorni è stato anche bello in un certo senso perché c'era appunto la possibilità poi di andare a reperire subito il volume seguente. Vediamo a questo punto un pochino più nel tecnico di questi sei volumi quindi molto apprezzata questa manovra diciamo così editoriale questo esperimento editoriale e poi chiaramente abbiamo le copertine che sono assolutamente favolose quindi questi libri sono anche oggetti di collezionismo quindi non solo da leggere ma anche da conservare le copertine sono strepitose sono bellissime hanno queste incisioni ognuna un po diversa e ha questo gusto molto retro il tutto per cui assolutamente godibili anche da questo punto di vista. Altro elemento a favore il prezzo perché questi libri voi li pagate 9 euro 90 l'uno per cui assolutamente fattibile ogni 15 giorni adesso però se non l'avete ancora presi iniziati a collezionare non preoccupatevi perché non dovete aspettare niente nel senso che sono tutti disponibili quindi questa è un'altra ragione cioè se siete amanti delle saghe però non volete aspettare e volete avere la possibilità se un primo volume vi piace di leggere subito gli altri questa saga fa ulteriormente per voi perché adesso è assolutamente conclusa sono sei volumi e adesso entriamo un pochino più nella storia potrebbe piacere a chi sicuramente a chi ama le storie corali perché qui le vicende riguardano una famiglia che sono i caschi una famiglia molto possidente della lavama che hanno proprietari diciamo così di una segheria e che vedranno in qualche modo l'evoluzione del loro percorso dal 1919 fino agli anni 70 quindi questa è la fascia di tempo che viene appunto coperta dalle vicende dei personaggi di tanti personaggi che andremo a ritrovare all'interno della saga quindi profondo sud assolutamente sì atmosfere molto vicine a quelle che si possono ad esempio ritrovare in capolavori come via col vento anche se l'epoca chiaramente non è assolutamente la stessa ma ci sono delle forti atmosfere da profondo sud c'è anche il discorso ovviamente razziale perché comunque alcune persone che vanno a lavorare per i caschi chi entreranno nella vicenda sono persone di colore quindi sono persone negre sono persone che chiaramente hanno anche loro un loro percorso all'interno della storia quindi sicuramente consigliata a chi ama le vicende familiari a chi invece non le ama assolutamente no perché qui i protagonisti sono un po' tutti e l'evoluzione che si ha all'interno della saga riguarda tutti i personaggi quindi una vera e propria vicenda corale ci sono elementi gotici sì tanti alcuni libri ce l'hanno di più di altri molti ad esempio hanno notato che nell'ultimo libro ritornano tanto questi elementi gotici perché ci sono alcuni volumi della saga dove questo elemento è meno evidente ma comunque c'è e poi ci sono appunto queste atmosfere vi dicevo perché comunque il tutto ruota intorno al black water e al perdido che sono questi due fiumi pericolosi molto molto oscuri molto paludosi per cui c'è sempre questa sensazione odorifica all'interno della saga quasi di la percezione odorifica nel senso c'è sempre la sensazione di sentire la puzza che viene ovviamente dal perdido e che viene appunto soprattutto dal perdido ma anche dal black water insomma da quelli che sono i fiumi che ruotano intorno alla vicenda che entrano da protagonisti e qui mi fermo perché se no vi farei degli spoiler all'interno comunque della vicenda quindi molto molto protagonisti all'interno della vicenda queste atmosfere paludose paludose soprattutto queste atmosfere vi dicevo da profondo sud per cui molte volte i personaggi ad esempio si mettono sulle verande a chiacchierare magari in queste state affose caldissime a chiacchierare sulle verande con le sedie d'ondolo ad esempio oppure a lavorare nella stagione chiaramente adatta alle coperte patchwork insomma ci sono queste atmosfere da profondo sud miste a quelli che sono gli elementi gotici e poi alcuni personaggi sono talmente ben caratterizzati ben centrati che sicuramente vi mancheranno una volta che avrete finito la narrazione perché michael mcdowell che tra l'altro è uno sceneggiatore che ha appunto annovera anche tra i suoi lavori nightmare before christmas e quindi vi dico solo questo riesce comunque a creare una storia sicuramente di genere ma comunque a dare una buona caratterizzazione ai personaggi e quindi veramente ci sono dei personaggi che vi rimarranno nel cuore non è particolarmente cruento nel senso comunque ci sono degli elementi appunto gotici ma secondo me accessibili praticamente a tutti sì qualche momento però voglio dire nell'economia del tutto ci sta ed è molto molto azzeccato io vi dico solo che alla fine dell'ultimo volume ero veramente in lacrime e ci sono stati tanti passaggi all'interno della storia che mi hanno tanto commosso tanto che l'intenzione mia è quella di fare anche un episodio del podcast dedicato alla saga di black water però più orientato verso chi l'ha già letta per fare un po' un discorso anche dove non stare attenta a quelli che sono appunto gli spoiler che potrei fare perché veramente alcuni personaggi come james ad esempio come miriam mi sono proprio entrati nel cuore tanto che sapete quando leggete un libro o una storia che vi piace talmente tanto che quando la chiudete non solo non vedete l'ora di iniziarla siete assolutamente certi che una volta prima o poi lo farete che prima o poi appunto lo farete ma non solo anche quando vi sentite un po' orfani cioè la ricerca di una nuova storia altrettanto coinvolgente è difficile perché vi trovate a un punto in cui quello che lasciate è talmente intenso e vi ha lasciato delle sensazioni così favorevoli che vi ritrovate un po' orfani come dire troverò una storia che saprà coinvolgermi altrettanto per cui se vi state chiedendo se black water è un espediente editoriale vi dico di no è sicuramente una saga che merita molto merita fatelo dire da una che ne ha letti tanti di libri con venature gotiche che ama tantissimo il genere e che non è neanche una fan accanita delle saghe familiari perché poi alla fine se ci penso non è che ne abbia lette così tante ma in questo caso veramente non riuscirete a non coinvolgervi all'interno appunto della storia quindi assolutamente consigliata perché è una saga che merita in se stessa cioè al di là del fatto che se ne è parlato tanto perché molti dicono è insomma un fenomeno editoriale beh andiamoci piano sia un fenomeno editoriale ma è uscito nel 1984 quando non è sicuramente un qualcosa di costruito a tavolino dubbiamente ha avuto una riedizione grandiosa nel senso che comunque questi volumi separati queste copertine strepitose tra l'altro l'autore delle copertine è l'illustratore e penso che verrà al salone per cui non lo so se c'è già stato o meno perché io non tendo diciamo a non interessarmi molto perché purtroppo non ci posso andare e per cui voglio dire ditemelo voi appunto però so che sarà appunto o cioè già stato ospita al salone del libro e tra l'altro ci sarà anche la possibilità di incontrarlo queste copertine sono veramente favolose e rendono giustizia a un qualcosa che secondo me già era di valore nell'84 e che grazie a questa nuova veste editoriale ha assunto una connotazione sicuramente molto più capillare e ha permesso molte più persone di approcciarsi all'opera di leggerla e comunque di apprezzarla per cui se vi piacciono le storie gotiche le storie da vecchia america del sud le stati affose e oppure gli autunni di descrizione ad esempio di queste querce sono favolose perché comunque caschi che lavorano nell'ambito delle segherie per cui comunque in tanti momenti mi ha ricordato l'etmosfera ad esempio di twin peaks quindi assolutamente consigliata a chi ama questo tipo di storie direi che non è assolutamente consigliata a chi a chi non ama le storie corali perché è sicuramente la storia corale cioè tutto comunque ruota intorno a tanti personaggi anche se io sinceramente non ho fatto assolutamente fatica a riprendere il filo anche se comunque l'ho letto abbastanza uno dopo l'altro perché comunque voi avete la possibilità di leggere un antefatto per cui ogni volta che prendete un nuovo libro avete appunto l'antefatto che vi dà la possibilità di riallacciare se vi siete appunto persi o vi siete dimenticati qualche cosa della trama quindi a questa saga io mi sento assolutamente di dare cinque stelle su cinque e per adesso oggi il 30 aprile quindi finisce il primo spicchio di questo 2023 è stata sicuramente una delle più anzi sicuramente la più bella scoperta di quest'anno a livello appunto editoriale e quindi niente fatemi sapere scrivetemi nei commenti se avete già iniziato a leggere black water se lo farete se sono riuscita in qualche modo e incuriosirvi e rimando al podcast perché lo farò assolutamente al terzo episodio del mio podcast dovrebbe essere il terzo il quarto non ricordo ma credo il terzo forse il quarto insomma al prossimo episodio del mio podcast però però con chi l'ha già letta perché vi voglio veramente un po' lasciare andare anche a delle considerazioni che voglio fare sui personaggi personaggi veramente che in alcuni casi mi hanno lasciato con le lacrime agli occhi e poi questi questi odori questo fiume questi paludi che entrano comunque all'interno della storia in maniera prepotente insieme a tanti elementi femministi perché comunque ci sono alcuni personaggi alcune figure femminili che veramente insomma vi daranno da fare e parlo di qualche neurocino che ci è rimasto sulla testa e con questo mi pare di avervi detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao